Buonasera e benvenuti. Ben ritrovati con la voce di Cremona, oggi primo giorno di zona bianca e diciamo un po' tutto sta tornando a una seminormalità, anche se ci sono ancora molte problematiche. Una tra queste in realtà, di tutte le attività che abbiamo visto fino ad oggi, ce n'è una che sta riprendendo, si sta riprendendo a lavorare, ma a differenza di come tutti pensano ci sono ancora molti limiti per far sì che questo possa riprendere al meglio. Sto parlando del settore turistico, quindi dei tour operetto, delle agenzie di viaggio. Andiamo a parlarne ovviamente con una persona qualificata a far questo, che è Valentina Tonani, agente di viaggio Robin Tour Cremona Centro. Valentina, buonasera innanzitutto, ti ringrazio per essere qua con noi e in merito proprio a quanto stavo accennando adesso con i nostri telespettatori, qual è la realtà che voi state vivendo? Perché siete ripartiti, sì, ma c'è ancora una grossa fetta sulla quale non potete operare, se non erro. Assolutamente, buonasera Giuseppe, innanzitutto grazie per averci invitato, grazie per l'interessamento, per darci la possibilità un po' di parlare appunto di noi, visto che facciamo parte di uno dei settori, forse solo insieme alla cultura, gli spettacoli che hanno sofferto di più, che ancora soffriranno molto per questa pandemia e questa situazione, ma sembra che ha pochi interessi. Quindi grazie davvero per questa opportunità. Sì, ci sono decisamente delle grosse limitazioni. Ti posso dire molto brevemente che a noi manca l'80% del prodotto e il nostro prodotto è il mondo. Noi per lavorare abbiamo bisogno di tutto il mondo. Normalmente trattiamo e vendiamo tutto il mondo. Adesso, come adesso, da un anno e mezzo a questa parte e fino al 30 di luglio, data in cui scadrà l'ultimo decreto, poi vedremo cosa succederà. Comunque al momento è ancora così. I cittadini italiani, per volere del nostro governo, per turismo, specifico solo per turismo, non entro nel merito delle eccezioni, dei viaggi di lavoro, piuttosto che motivi familiari, per turismo possiamo stare solo in comunità europea, quindi paesi dell'Unione Europea, che d'estate si traducono di fatto in tre, quattro cose, tre, quattro destinazioni. Per prima, ovviamente, la nostra meravigliosa Italia, le sue città d'arte, il sud, le coste, le isole. Fortunatamente offre tanto, fortunatamente. Fortunatamente non ci manca niente, anzi, però da un punto di vista nostro, professionale, è decisamente poco. Si aggiunge all'Italia, a tutto il bacino, non tutto, parte del bacino del Mediterraneo, per cui la Spagna, con le sue isole, le sue coste, la Grecia, altrettanto, con le sue isole, e qualcosa in nord Europa, che è particolarmente richiesto d'estate per il discorso dei fiordi, l'Islanda, che sempre più attirano turisti, ovviamente, per la loro particolarità. Ed è di queste ultime ore, neanche giorni, la notizia di uno di quei paesi del nord che ha allentato un po' le norme all'ingresso. Però noi, il nostro lavoro, noi e i tour operator, che mi preme specificare, i tour operator e le agenzie di viaggio, sono delle aziende con dei lavoratori, tanti, nel nostro caso qualche centinaio, e nel caso di grandi tour operator italiani anche qualche migliaio, quindi lavoratori con famiglie che lavorano in Italia, grandi aziende che lavorano in Italia e sostengono l'economia italiana. Volevo solo specificarlo perché mi sembra di capire, parlando a volte con le persone, che se non si è del settore, si ha un po' la percezione così, che siamo delle entità un po' astratte, come dire, invece siamo aziende, lavoratori che lavorano e che hanno bisogno. Comunque ci sono delle persone con problematiche realtà, delle vite personali, con delle spese anche personali, che a quelle quali bisogna far fronte. Ecco, in merito proprio a questo, quanti siete presso il vostro punto di Cremona Centro, quanti eravate, scusami, pre-pandemia a lavorare e quanti siete ad oggi, nel momento in cui vi è stata la possibilità di riprendere? Allora, noi nel nostro ufficio siamo in sei, divisi tra business travel, appunto sono tre colleghi che si occupano dei viaggi di lavoro delle aziende cremonesi e non, e poi siamo in quattro che ci occupiamo di turismo, quindi al banco, come si dice in gergo, e lavoravamo tutti e sei, 40 ore la settimana, adesso invece quando abbiamo, da quando abbiamo riaperto, un po' pizzi che boccone a febbraio, e poi definitivamente adesso andiamo più o meno 15 ore la settimana a testa e una alla volta, perché sì, c'è tanta richiesta, ma che però si può, come dire, esaudire così, quindi capisci in proporzione rispetto che hai in sei per 40 ore e 15. Come avete fatto in tutto questo periodo, diciamo, a sopravvivere? Perché è un periodo comunque che mi rendo conto che non è stato facile, le aziende, poi, correggimi se sbaglio, sappiamo, anche le persone che ci seguono, abbiamo visto molte realtà che gli aiuti che sono arrivati anche dagli enti statali, regionali e quant'altro, non sono stati minimamente sufficienti a coprire le spese, quindi, diciamo, se l'azienda ha avuto delle problematiche, io suppongo che anche voi ne avete avute e non poco, anche perché sono svariati mesi che siete stati chiusi. Sì, sono stati mesi duri per noi agenti, che proprio eravamo a casa nell'impossibilità totale di lavorare, sono stati duri anche personalmente, nel senso che ovviamente c'era una grande preoccupazione di perderlo il nostro lavoro e so, per certo, che posso parlare a nome di tutti i miei colleghi, noi amiamo il nostro lavoro e facciamo tutti nel mio ufficio questo mestiere da più di vent'anni e non vorremmo mai farne un altro, per cui nel momento in cui ci siamo fermati a pensare che forse era il caso di pensare di fare qualcos'altro, abbiamo capito che ancora di più, che non vogliamo, non vorremmo mai dover fare qualcos'altro, perché è uno di quei lavori per cui devi avere passione, ecco, insomma, per cui se ti piace molto è dura pensarsi in un altro contesto. La nostra azienda fino adesso è sopravvissuta e sta sopravvivendo bene, in quanto per fortuna è un'azienda grande, solida e con le spalle larghe, diciamo, e che con gli aiuti, per quanto, sì, non sufficienti, ma anche e soprattutto con la cassa integrazione di cui sta ovviamente ancora giovando, riesce a tenerci, a mantenerci il posto di lavoro a tutti. Ecco, vediamo un po' anche la situazione delle agenzie di viaggio, più che altro quelle specializzate in settori molto particolari che abbiamo trovato anche proprio sul nostro territorio cremonese, più nello specifico proprio all'interno della Casa Vescovile. Andiamo a vedere. È stato senz'altro un anno difficilissimo. Noi siamo specializzati sui pellegrinaggi e sul turismo religioso. Le mete di turismo religioso sono state affrontate però soltanto in Italia, qualche iniziativa lo scorso anno, mentre è completamente chiuso la Terra Santa e i pellegrinaggi e i santuari importanti come Fatima e Lourdes, per cui sostanzialmente zero come presenza. Nel mese di giugno c'è un discreto movimento, naturalmente non paragonabile con gli anni scorsi, però diciamo che almeno 3-4 gruppetti in questo mese di giugno siamo riusciti a concretizzarli. I numeri sono numeri molto bassi, ovviamente parliamo di massimo 15 persone per gruppo. L'avvento di internet ha certamente condizionato molto il fatto delle persone di venire in agenzia. Viene un certo tipo di clientela, c'è chi ha bisogno di costruire un viaggio di un certo tipo oppure la persona anziana. I ragazzi ovviamente giovani si organizzano da soli sia per quanto riguarda la prenotazione di voli sia per quanto riguarda la prenotazione di villaggi o strutture alberchiere. Ad oggi come vede il prossimo futuro delle agenzie di viaggio? Speriamo riprendano il più possibile anche se certamente non sarà un percorso facile e breve. Ecco, questa è un po' la ripartenza anche per quanto riguarda i viaggi organizzati di gruppo principalmente. Voi come siete ripartiti? Io so che sei tornata da poco anche da forma intera, siete riusciti comunque a fare anche qualcosa di interessante? Sì, siamo riusciti finalmente a fare questo viaggio organizzato a gennaio del 2020 che doveva essere poi svolto nella scorsa estate ma per ovvi motivi e impedimenti abbiamo dovuto cambiarlo e era proprio un viaggio organizzato, eravamo in 21, io li ho accompagnati, era un viaggio organizzato in collaborazione con un centro yoga della nostra città è stato molto faticoso riallacciandoci alle difficoltà che abbiamo in questo momento per tutte le varie normative che ogni paese europeo ha diverso l'uno dall'altro Adesso c'è anche questo pass vaccinale, no? No, questo pass, scusami, Green Pass Il famoso Green Pass, Giuseppe, sì Doveva essere... Cioè per voi sta diventando un problema questo? No, non è che sta diventando un problema, è che non c'è ancora Doveva essere pronto a giugno che comunque era tardi perché la stagione, visto che appunto si limita al Mediterraneo uno strumento di quel tipo lì andava studiato sicuramente prima ma l'Europa ha cominciato a parlarne qualcosa come fine aprile Adesso doveva essere pronto a giugno pare, no, è slittato non pare, pare che sarà pronto all'utilizzo a luglio e questo dovrebbe un po' uniformare diciamo le regole comunque così la movimentazione dei cittadini europei all'interno della stessa Europa in maniera molto più fluida e semplice soprattutto uguale per tutti Voi avete fatto quindi sia per andare che per tornare i cosiddetti tamponi, giusto? Sì, abbiamo dovuto fare il tampone la Spagna lo richiede molecolare 72 ore prima dell'ingresso e l'Italia invece per il rientro chiede il rapido 48 ore prima del rientro per cui noi chiaramente siamo abituati a organizzare i viaggi su misura e diciamo dalla A alla Z per i nostri clienti sempre, nel senso che questo è proprio il nostro lavoro per Antonomasia in questo periodo ovviamente ci siamo adattati e di conseguenza organizziamo anche tutta questa parte ci occupiamo anche noi di tutta questa parte burocratica e soprattutto aiutiamo i nostri clienti a districarsi in questo far west che c'è attualmente di norme una diversa completamente dall'altra per ogni paese e abbiamo anche stipulato una convenzione nella nostra azienda ha stipulato una convenzione con dei centri privati dove abbiamo le agenzie quindi non solo a Cremona ma anche nelle altre città per far avere i nostri clienti un accesso diciamo diretto alla prontazione dei tamponi e con un prezzo anche particolarmente ridotto così che possa impattare meno sì perché ci sono poi paesi infatti che ne approfittano anche di queste situazioni legate ai tamponi ci sono state diverse segnalazioni soprattutto all'estero quando si sa che bisogna rientrare quindi sei costretto a farlo ci sono realtà poi che se ne approfittano è stato messo un limite su questo? ma per il momento no nel senso che adesso la stagione è appena partita e noi con questo tipo di organizzazione problemi non ne abbiamo perché appunto qui abbiamo il centro convenzionato facciamo la prontazione per i nostri clienti e a rientro nei nostri viaggi di gruppo organizzati abbiamo anche lì già la prontazione esattamente 48 ore prima del rientro con l'assistente sanitaria che va direttamente in albergo dai nostri clienti e gli lo fa ad un prezzo sempre giusto diciamo sicuramente non approfittandosene ecco volevo dirti c'è anche un'altra problematica in tutta questa cosa qui cioè quello legato al fatto che c'è un dato che fa un po' riflettere è un dato italiano ma noi abbiamo fatto una piccola inchiesta anche su Cremona cioè che il 20% delle persone ha deciso che quest'anno non andrà in vacanza infatti si è potuto registrare per quanto riguarda dati Istat sui conti correnti degli italiani un incremento dei risparmi dall'altra parte c'è un altro dato un 47.4% di famiglie che non hanno ancora deciso bene che cosa fare questo è il dato italiano andiamo a vedere anche qual è il dato effettivo su Cremona se combaccia o meno con il dato nazionale sentiamo no io no purtroppo morto mio marito gli aspetti tutti nel funerale no 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 non vado come mai? sono disoccupato non c'è soldi una settimana sì dove? in montagna assolutamente no sono partita iva io non ci andrò mai in vacanza per i prossimi anni io penso che sulle vacanze un pensiero non ce lo faranno tutti sì magari breve ma penso che un po' di relax ci vuole c'è tanta disoccupazione sicuramente questa pandemia non ci voleva e speriamo bene incrociamo le dita per tutti niente vacanza anche un problema economico soprattutto e poi dato un'occhiata un po' ai prezzi i prezzi sono alti per cui insomma problema economico prezzi alti è difficile trovare la combinazione giusta io non ci andrò senz'altro come mai? perché non ho la possibilità sono un lavoro precario e non ce la faccio insomma anche se ho chiesto l'aiuto al governo però non ce la faccio insomma ho pagato le cose indietro e perciò niente vacanza questo qua è il dato cremonese che abbiamo potuto vedere quindi dove ci dicono che un cremonese su 5 ad oggi probabilmente non andrà in vacanza però ci sono comunque altri 4 che andranno in vacanza quindi io penso che questo è un dato che anche a voi comunque fa abbastanza piacere perché avete un 70-80% di persone sulle quali poter lavorare alle quali dare la vostra opportunità per viaggiare all'estero anche se abbiamo visto che ci sono ancora molte limitazioni per uscire al di fuori dell'Europa beh sì ti dico visto dalla mia scrivania in realtà sì il dato è confortante e penso di potertelo confermare perché noi veramente abbiamo un grande afflusso e si percepisce chiaramente questa grande voglia di ripartire e di andare probabilmente anche perché noi siamo un'agenzia storica e di conseguenza abbiamo tantissimi clienti affezionati che vengono sempre da noi e che sono dei viaggiatori e che quindi non aspettavano che la possibilità di al netto del discorso estero rilacciandomi alla domanda di prima di cosa avete fatto in questi mesi a parte esserci formate molto quindi esserci tenute ovviamente aggiornate soprattutto quello che è il nostro mondo la nostra azienda poi ha lavorato anche tanto per proporre ai vacanzieri, ai turisti per quest'estate qualcosa che potesse essere appetibile visto quello che abbiamo appena passato per cui abbiamo dei programmi molto interessanti che si chiamano Vacanza Attiva che sono degli itinerari turistici in Italia molto a contatto con la natura dove si possono soggiornare in bed and breakfast di charme piuttosto che in agriturismi dove si ha la possibilità di fare escursioni in bici anche con le biciclette con la pedalata assistita quindi niente di particolarmente non bisogna essere degli sportivoni per farli sono cosa alla portata di tutti piuttosto che passeggiate a piedi e qui riallacciandosi sempre al discorso del primo al nostro paese ovviamente è pieno di opportunità per cui dal Piemonte alla Toscana alle isolette come può essere Capri abbiamo soluzioni un po' per tutti i gusti ecco voglio farti un'ultima domanda però prima di rispondermi ti faccio vedere un breve filmato di un'inchiesta che abbiamo fatto tramite Cremonesi quanto ha inciso sulla vostra realtà il mondo online quindi internet soprattutto per quanto riguarda le prenotazioni delle vacanze quindi vediamo insieme che cosa hanno deciso di fare i Cremonesi preferibilmente preferisco andare di persona agenzie di viaggi lo faccio raramente perché di solito vado allo stesso posto però preferisco l'agenzia di viaggi cosa è che ti offre di più l'agenzia di viaggi rispetto a Inter? riesco a parlare chiaramente con la persona davanti perché magari su Inter mi sfugge qualche cosa da spuntare allora preferisco sempre parlare direttamente con la persona che si occupa di tale mansione nell'agenzia io principalmente guardo booking e i vari siti social come mai questa scelta di guardare magari i siti su internet piuttosto che andare in agenzia? perché cimentandomi più sull'ambito sendo che sono le prime volte mi affido molto di più a questi siti e ci vado pochissime volte in agenzia quindi anche a scuola o negli ambienti tra amici così parliamo sempre di queste cose ci mettiamo sempre d'accordo e quindi i primi risultati vengono appunto booking o trivago questi siti qua quindi è più normale prendere questa strada è più semplice anche perché ci sono le recensioni anche delle altre persone che vanno su negli hotel eccetera quindi non dico che sia migliore però ho già un punto in più rispetto a non dico all'agenzia perché per carità sicuramente offrirebbe qualcosa di migliore anche all'agenzia però le recensioni sono un punto di riferimento online come mai la scelta online? più veloce, c'è più informazioni? no, non prenoto di solito vado vado su mia volontà senza prenoto niente? no all'imito guarda qualcosa in internet solitamente prenoto tramite internet perché ci sono molto più offerte ci sono molte più possibilità di scelta quindi è più facile trovare il prezzo migliore nel posto in cui preferisci quindi è più comodo anche in autonomia da un bel po' di tempo già tramite internet sinceramente perché offre possibilità che non si trovano presso i punti presso le agenzie di viaggio no, noi su internet una volta che mi sono muovere su internet preferisco internet ci sono più offerte più possibilità anche gli aerei mi prenoto tutto da solo allora io sono abbastanza fortunata perché ho la casa al mare quindi non prenoto quasi niente però se devo prenotare su internet decisamente in Europa e dove riesco a parlare la lingua del posto in cui vado prenoto tutto su internet come mai questa scelta? mi trovo più comoda mi piace di più organizzarmi da sola e mi piace molto proprio organizzare i miei viaggi allora Valentina qua abbiamo visto che la maggior parte delle persone preferisce Inter soprattutto diciamo ma neanche stavo per dire ai ragazzi giovani però abbiamo visto anche alcune persone che non sono cioè sono diversamente giovani diciamo così ecco come lo commenti questo video? ma allora diciamo che questo processo di di prontazione delle vacanze tramite internet e portali è una cosa che noi abbiamo già vissuto e abbiamo già in parte visto parecchi clienti che sono andati si sono autogestiti e poi sono anche già ritornati vuoi perché hanno avuto delle problematiche vuoi perché non si sono trovati bene per n motivi il discorso dei ragazzi giovani che vedevo millennial giusto così si dice credo che quello sia proprio come dire uno state of mind che hanno e probabilmente è anche giusto così e diciamo che noi sicuramente ci rivolgiamo ad un altro tipo di clientela che ha bisogno di un altro tipo di consulenza ecco il discorso ho sentito una signora che parlava che ci sono le recensioni ecco noi siamo dei recensori umani viventi in quanto come ti dicevo prima avendo clienti ventennali che conosciamo nel senso che conosciamo proprio personalmente e soprattutto di loro conosciamo il loro metro di giudizio il loro metro di misura per cui nel momento in cui io mi trovo davanti un cliente a parte avere la capacità di capire che cosa desidera e che cosa può essere meglio per quella persona in quel determinato contesto villaggio albergo vacanza luogo paese e quella è una cosa che si impara ovviamente facendo questo lavoro poi noi conosciamo le strutture i paesi i luoghi o direttamente perché ci abbiamo viaggiato fortunatamente o anche indirettamente perché abbiamo mandato tantissimi clienti di cui abbiamo riscontri quelle recensioni lì che si leggono su determinati motori ce le abbiamo anche noi le nostre però sono più fidate decisamente sì assolutamente anche perché fidate e più accurate io poi ho dato un'occhiata un po' anche alla vostra realtà e mi sono reso conto che effettivamente loro hanno fatto una cosa molto intelligente nel senso che quando c'è qualcosa di nuovo come può essere internet anche se non è più nuovo ma in realtà è un qualcosa diciamo anche di nuovo bisogna fare una scelta o se lo si fa nemico o se lo si fa amico loro hanno avuto l'idea di far solo amico infatti anche attraverso comunque i vostri portali come anche altre agenzie hanno fatto e hanno sfruttato questa carta per potenziare poi il loro bacino di offerta se non erro quindi se una volta poteva essere non conveniente andare dall'agenzia a trovare l'offerta tramite l'online oggi non è più così anzi siete molte volte molto più competitivi voi diciamo che scusa mi tocca contraddirti probabilmente non lo è mai stato e a maggior ragione adesso non lo è non è vero dobbiamo sfatare questo mito in quanto farò un esempio che così forse è più facile da comprendere che il Groupon lo conoscono tutti quando si riesce ad acquistare non so quel determinato prodotto piuttosto che dei fork dove si acquistano i menù le cene nei ristoranti e così perché sono dei gruppi di acquisto ecco un grande gruppo come può essere il nostro di agenzie di viaggio ha un forte potere commerciale contrattuale per cui l'albergo X in Sardegna che noi andiamo ad acquistare che costerebbe 100 al cliente che direttamente va ad acquistarlo acquistandolo da noi magari costa no magari costa costa 70 perché noi come gruppo di agenzie parecchio e grande gli garantiamo una vendita costante durante la stagione un riempimento costante durante la stagione e una collaborazione dei contratti che hanno anche lì vite decennali tale per i quali abbiamo delle condizioni economiche migliore quindi assolutamente sbagliato pensare che da noi si paghi di più è esattamente il contrario mi piace che tu hai fatto questo esempio proprio per sfatare un mito nel senso che con le agenzie si può risparmiare molto più che con l'online quindi abbiamo finito il tempo io ringrazio Valentina per essere stata qua con noi e per averci raccontato un po' un mondo che ad oggi era stato un po' trascurato un mondo che invece ha bisogno di molta visibilità un mondo che ha ancora tanto da fare per poter ripartire al meglio noi quello che possiamo dire a tutti è nel momento in cui bisogna decidere che cosa fare durante le proprie vacanze di affidarsi a professionisti proprio come Valentina nelle agenzie viaggio per capire bene dove andare senza avere poi delle brutte sorprese vi ringraziamo per essere stati con noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti